bella a tutti ragazzi e bentornati oppure benvenuti sul mio canale youtube questo video nasce per spiegare come mai io sia finito al lucca comics è semplicemente un video introdottivo praticamente dalle mie parti c'era il martano comics il 7 agosto 2022 e due dei miei amici avevano deciso di parteciparvi allora io ho sempre stato un amante dei comics dei cosplay dei fumetti insomma di tutte le cose che potrebbero essere nerd e ho deciso di partecipare con loro ma ovviamente partecipavo senza cosplay senza nessun personaggio da rappresentare loro invece sono andati dritti lì per portare i cosplay di ace e luffy di one piece e niente io pensavo finisse lì ma in realtà quei due infami mi hanno coinvolto in un'altra impresa praticamente una volta arrivati lì mi fanno andrea vedi che dobbiamo partecipare ad un contest e io ho detto ok partecipate e loro mi fanno no partecipiamo e ho detto scusami in che senso ho detto eh ci dobbiamo esibire guarda non ti preoccupare tanto dovrai fare qualcosa di facile allora praticamente si erano inventati questa cosa loro portavano due personaggi di mortal combat anche e io non lo sapevo questo in anticipo praticamente loro si ritrovano a simulare questo combattimento l'uno contro l'altro e io insieme ad un altro amico dovevamo simulare due giocatori di playstation e fin qui alla grande perché essendo youtuber gamer tutto quello che si vuole ho detto va bene ci calo a pennello in questa parte infatti poi ce la siamo cavata ma è stato tutto così diciamo improvvisato però 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 vedendo loro così appassionati di cosplay poi avevo deciso diciamo di partecipare più in là a qualche altro comics e però non mi aspettavo di partecipare direttamente al lucca comics e così diciamo è nata questa cosa e per fare i cosplay che ho portato al comics mi hanno aiutato loro e si capirà anche il perché da questo video perché appunto Matteo ha fatto Ace e io gli ho rubato questo personaggio e Roberto invece mi ha dato Spider-Man e quindi mi sono ritrovato da zero a due cosplay da portare e niente passo adesso alla parte che riguarda questo video e quindi passo direttamente a mostrarvi come è andato questo piccolo sketch e in generale questo Martano Comics canale 1 V4 come l'opera è il click se lo faccio di vedere con un questo video, con il mio commento Untenuto euro 1 allo ve' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.